Addio istituzione Giostra dopo ben 23 anni. Anche il Consiglio Comunale ha infatti dato il parere positivo al suo scioglimento e alla conseguente modifica al regolamento della manifestazione. La pratica è stata votata all'unanimità e sono state accolte anche le eccezioni presentate dal consigliere Paolo Bertini e dall'opposizione, che ha espressamente richiesto una netta separazione tra Giostra del Saracino e Fondazione Inturra. Le competenze riguardanti la manifestazione resteranno in carico completamente all'amministrazione comunale e agli uffici competenti. Come organismo di rappresentanza dei quartieri, ecco la consulta, composta dal rettore di ciascun quartiere e da un rappresentante nominato direttamente dal sindaco in veste di presidente. Quest'ultimo resta in carica tre anni e può essere confermato. Esprime pareri obbligatori, vincolanti, in ordine disciplinari relativi alla manifestazione. Esprime parere obbligatorio anche sulle modifiche al regolamento della Giostra e sullo svolgimento di eventuali edizioni straordinarie. Ha anche le funzioni propositive in merito alla modifica dei suddetti disciplinari. Nasce poi il Consiglio della Giostra, il comitato consultivo di nove membri che supporta le attività che concorrono alla realizzazione della scenografia, del corteggio storico, delle manifestazioni collaterali, con un rappresentante per ogni associazione che fa parte del corteggio. Il Consiglio della Giostra ha anche funzioni propositive in merito alla modifica del disciplinare sulla scenografia. Novità infine anche per quanto riguarda la magistratura della Giostra, visto che quella in carica ha terminato il suo mandato a fine 2018. Intanto la sua composizione è stata portata a dieci membri grazie ad un emendamento al regolamento sulla Giostra di Paolo Bertini. Ecco i nuovi magistrati, Marco Cecchi, il primo magistrato, Angelo Agnolucci, Luca Bizzarri, Gino Gioffini, Zauro Quelizzi, Mauro Messeri, Laura Paffetti, Marco Salvadori, Andrea Sandroni e Roberto Tundo, manterranno la carica nel triennio 2019-2021. Grazie a tutti. Grazie a tutti.